L'esesiasmo è ancora vivo dopo la cronometra, oggi è quello che è preso. Beh, il ciclo è buonissimo e oggi è bella gara, molto dura, impegnativa e bisogna vorrei vedere davanti. La condizione c'è, non è in forma e quindi spero di fare meglio. Di che sensazioni ti darà riascontrare quel circuito dove hai scoperto prima qualcosa di magico? Eh sì, il ciclo finale lo affatteremo due volte oggi. Dopo quello che sono riuscito a fare la cronometra, riportare le stesse strade, ovviamente, molti sporti e spero di comprensarsi. In quanto riguarda la futura per voi è il scenario migliore per la squadra? Sì, noi sono ragazzi molto sporti e facciamo la gara più piccoli dura e più gioiemo bene. No, ma anche l'altro qui mi pareva una buona sensazione. Per cosa di avversari invece c'è Marco Brenner che è proprio chiamato praticamente qui davanti e poi... Eh sì, c'è questo grande, il tennis è un po' di manno e molto forte. Poi anche gli altri ragazzi tedeschi sono molto forti e poi vede le sue direzioni, esempio Francia, poi l'America, quindi un avversario molto valido. Però mai fa una direzione? No, noi mi parevano essere suure, insieme a selle vede andare avanti da starvi. E' l'unore, grazie mille.